Partita e spettacolo di livello più che buono fra Verona e Milan e il risultato di parità tutto sommato equo. L'inizio è piuttosto guardingo e le due squadre sono ancora in fase di studio, quando il Verona al diciottesimo va improvvisamente in vantaggio. Su lancio di Mascetti, Zigoni scatta sul filo del fuorigioco e mentre il guardalinee conferma la regolarità della sua posizione, i difensori milanisti convinti del contrario si fermano. È facile così per il veronese battere Albertosi. Insiste il Verona alla ricerca del raddoppio, ma al ventiquattresimo Luppi sciupa malamente, un bel suggerimento di Zigoni, mentre un minuto dopo è Albertosi che salva la sua rete, neutralizzando il colpo di testa di Sirena con un plastico volo. A questo punto viene fuori il Milan, sospinto da un Rivera apparso molto vicino alla sua forma migliore. Il pareggio arriva al ventisettesimo grazie a questo splendido assolo di Chiarugi. La gara prosegue senza pause, le due squadre non si risparmiano, cosicché sull'uno e sull'altro fronte si susseguono gli attacchi, alcuni dei quali molto pericolosi. Nella ripresa, mentre il ritmo cala un po', il Verona cerca di accentuare la sua pressione, ben contenuta peraltro dai rossoneri, che rispondono con rapidi contropiede. Sfiorano così la segnatura al diciottesimo, quando Ginulfi salva fortunosamente sulla conclusione di Vincenzi, e vanno in vantaggio al ventiduesimo, con questa fuga di Maldera e tocco finale di Vincenzi. Sembra finita per il Verona, che invece grazie alla caparbietà e alla grande giornata di Zigoni, riesce a mantenere l'iniziativa e a riagguantare il pareggio. Ed è anche questa una bella rete costruita appunto da Zigoni e messa a segno da Moro. Ultima emozione al trentanovesimo, quando il capitano veronese Sirena ha sul piede la palla buona, ma la sciupa e la gara si conclude sul 2 a 2.